L'Assemblea dei Soci di Nuove Acque ha nominato Carlo Polci il nuovo Presidente. Che cosa ha provato quando ha saputo di essere stato nominato all'unanimità? Un senso di gratitudine e questo credo che sia fatto il momento dei grazie. Io devo ringraziare Matteo Grassi che per primo ha pensato al mio nome e Paolo Ammirati che lo ha spalleggiato. Ma devo ringraziare ancora di più e molto di più tutti i sindaci della provincia di Arezzo che hanno avuto un'idea unanime e questo mi gratifica moltissimo, aiuta moltissimo il lavoro che intendiamo andare a intraprendere e che credo rafforzerà moltissimo questo Consiglio d'Ammistrazione che andrò a presiedere. Lei rappresenterà l'intera comunità aretina, la provincia di Arezzo e non solo? Ci mancherebbe altro. Questo non dico che era una condizione perché non mi sono posto condizioni e non mi sono permesso di porre condizioni. Però era un desiderio molto forte che avevo e del quale mi sento in questo momento felice e orgoglioso. È un impegno che considera difficile? Allora, l'azienda la conosco, conosco alcuni apicali che so essere veramente di grandissimo valore. Non ho il piacere di conoscere l'amministratore delegato che però so essere persona di altissimo spessore professionale. Non ho il piacere neanche di conoscere il mio predecessore ma sono molto felice che potremo proseguire questo percorso assieme. A me piace lavorare in team, sono un uomo che ama lo sport e quindi il gioco di squadra. Ha maggior ragione in un servizio pubblico essenziale come l'acqua, direi forse il maggior servizio pubblico essenziale. È importante avere prima di tutto in animo coloro i quali fruiscono di questo e io spero che riusciremo a fare il meglio possibile in assoluto. Non ho certezze ma grande determinazione sì.